Fino al 15 gennaio al Museo delle Genti d'Abruzzo di Pescara sarà possibile visitare la mostra su Michele Cascella, un'antologica curata dal critico Massimo Pasqualone che ripercorre l'evoluzione pittorica di uno dei maggiori esponenti dell'arte italiana. All'inaugurazione tra gli altri c'erano anche il sindaco di Pescara Carlo Masci e l'assessore Alfredo Cremonese. Pescara è veramente una città piena di effervescenza culturale, poi qui parliamo di un'eccellenza pescarese ma mondiale perché Michele Cascella è un pittore di livello internazionale, lo ospitiamo qui al Museo delle Genti d'Abruzzo in questa mostra che è meravigliosa perché oltretutto ti fa entrare all'interno della gente abruzzese con Cascella che è protagonista. È un grandissimo artista, siamo onorati ed orgogliosi, una mostra davvero importante, è un grandissimo evento per la città di Pescara. Noi abbiamo puntato tantissimo sull'arte, faccio presente che per ogni euro che noi investiamo in cultura abbiamo un ritorno diretto di circa 3 euro, più abbiamo dei vantaggi indiretti che sono incalcolabili, quindi la cultura crea economia. 30 opere dai primi del Novecento agli anni Ottanta sono state inserite nelle ricche sale del Museo delle Genti d'Abruzzo, 30 tele che si distinguono per la grande potenza cromatica e una tecnica impeccabile, come racconta al Tg8 il critico Massimo Pasqualone. Portare qui a Pescara 30 opere straordinarie di Michele Cascella dopo un'assenza anche troppo lunga ha, come dire, influito tantissimo sul successo di questa mostra che ha visto insieme le istituzioni, il Comune di Pescara, il Museo delle Genti e gli enti privati. Cascella di bellezza ne sa tantissimo, una bellezza malinconica, una bellezza legata un po' anche all'influenza di Clemente Rebora. La bellezza è sempre imbastata di malinconia, come dice il grande Bruno Forte. Opere di una bellezza unica, di una bellezza appunto malinconica, che resiste al tempo. Cascella non si è lasciato irretire dalle avanguardie, ma si è, come dire, fortemente legato alla tradizione della famiglia. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 15 gennaio 2024, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 16 alle 20. Luigi Di Alberti, vicepresidente della Fondazione del Museo delle Genti d'Abruzzo, spiega che... Noi come fondazione gestiamo sia il Museo delle Genti che il Museo Cascella. Un connubio, come dire, amministrativo, ma a questo punto è diventato anche un connubio artistico. La realizzazione di questa mossa all'interno delle sale del Museo delle Genti è un'occasione unica per il pubblico per visitare il Museo delle Genti e le opere di Michele Cascella. Io ricordo sempre che il Museo delle Genti, non è il Museo delle Genti di Pescara, è il Museo delle Genti d'Abruzzo. E Michele Cascella è un pittore di una famiglia che dalla fine dell'Ottocento ad oggi illumina l'arte abruzzese e descrive il paesaggio abruzzese, quindi quale è il miglior luogo del Museo delle Genti per ospitare le sue opere.